Hanno voluto esserci, nonostante il rinvio dell'udienza preliminare per la tragedia di Rigopiano, in tribunale a Pescara i familiari delle vittime. Dopo il sopraluogo del primo aprile scorso, da parte del pool dei tecnici del Politecnico di Milano incaricato di effettuare la superperizia che si aggiunge alle due di procura da una parte collegio difensivo dall'altra, il GUP Sarandrea ha concesso una proroga di altri 60 giorni. Il termine per la consegna del documento è il 12 luglio. La superperizia sulle cause della tragedia che distrusse l'hotel Rarigo Piano il 18 gennaio del 2017, in cui versero la vita 29 persone ruote intorno a un fatto interrogativo. Come si sarebbe potuto fare e se e quanto hanno inciso le diverse scosse di terremoto? Evento imprevedibile, 30 gli imputati coinvolti che hanno scelto il rito abbreviato, le cui udienze arriveranno a sentenza entro la fine dell'anno. 9 da novembre le date dei riti abbreviati con tre udienze a settimana a partire da novembre. Gli enti coinvolti è regione, provincia, prefettura di Pescara e comune di Farindo. La liter della discussione della perizia porterà a un'altra data, ottobre, e questo perché le parti, a partire dalla pubblica accusa rappresentata da Giuseppe Bellelli e dai sostituti procuratori Andrea Papalia e Anna Benigni, hanno bisogno di tempo per studiare caso per caso. Paola Ferretti del Comitato, madre di Emanuela Bonifazi, il giovane 31enne, morto nella tragedia di Rigopiano. È una richiesta, penso, più che legittima perché non ne possiamo più. Per noi sta diventando veramente uno strazio che va ad assommarsi al dolore che portiamo dentro da più di cinque anni. Sicuramente, massima fiducia, massima stima, abbiamo sempre riconosciuto l'enorme lavoro che si stanno affrontando questi periti. La cosa che non mi spiego è come mai abbiano chiesto inizialmente, un termine che tutto sommato ci è sembrato accettabile, breve, di 90 giorni, per poi presentare tutte queste richieste di proroga, 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 perché questo è, se non erro, il terzo rinvio già. Da tanto che stiamo aspettando questo inizio di processo, sono quasi tre anni, quindi veramente sta diventando massacrante. Cosa ne pensate di questo rinvio? Ne pensiamo che onestamente non ce l'ho aspettato. Io non me lo aspettavo perché pensavo che dopo l'ultima richiesta di proroga potesse bastare. I tempi capisco che sono lunghi, non mi spiego come mai questo sopralluogo si è stato fatto così tardi rispetto alla data di nomina dei periti. Questo ci ha lasciato un pochino perplessi, magari si poteva forse fare prima. Ma due mesi per poi leggere dai giornali, che si riprenderà fino a ottobre, per noi da qui a ottobre è un'eternità. Grazie. 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 Grazie.